La monsicola di Cagliari, un'ora è 12.30, siamo vicini al primato, un'ora 13.03, vediamo un po' se riuscirà a migliorare il primato della gara, un'ora 13.03, ce la dovrebbe fare, quindi un'ora 12 migliora il primato della corsa. Antonia Zena, ecco la meta di Tempio Posania che gareggia per la monsicola di Cagliari, lui ha da scrivere il nome nell'albo d'oro di questa seconda edizione della maratonina Parte Monti.